Funzionano questi rettore di messi. Buonasera maestro. Eh, buonasera. Grazie, grazie di ospitarci a quello nella sua bellissima casa. Che cos'è? Ma questa che vede, no? Sì? È una nuova diavoleria moderna che mi ha procurato Salvatore. Ah. Dice che servono... Ma che servono, Salvatore? Io ho capito, sai. È un computer portato. Ah, ecco, vedi. E che ce lo fai? Perché così può andare sul suo sito e... Ah, un sito, maestro. E qual'è il suo indirizzo, così... Ma lei prende via del Lambaro. No, dice. Via del Lambaro dall'Avano. Ho capito. Ho capito. Sì, ma non l'indirizzo. Dabella dall'Avano. Ma non l'indirizzo di casa, l'indirizzo del sito. Cioè che c'è www. Ma che bocca vi meglio di me dove abit? No, dicevo www. Sì, ma dico www. Buongiorno!